ecco l'arrivo di oggi l'album slam attacks 2021 un box pieno la valigetta femminile the money in the bank che contiene delle carte limitate femminili e un multipack di alexa bliss esistono altri team box e multipack vari io per il momento ho preso questo allora nell'album c'è la checklist in cui si può vedere che le novità rispetto l'ultima serie sono che i lottatori non sono più divisi per roster ma sono in ordine alfabetico per il resto ci sono sempre i tag team le mosse ci sono delle carte più rare ho visto che le luci canti quest'anno le argentate sono divise in heroes per i vari roster i pay per view booster che come l'anno scorso ci sono delle carte la 365 di roman range queste due e quelle di john cena che sono molto rare da quello che ho capito e addirittura sono hanno questa rarità qui e ce ne sono circa 200 se non ho capito male poi ci sono delle bonus card in giro per il mondo quelle che possono essere gold bronze o silver o platinum le più ma qui non ci sono le platinum sono tutte gold quasi tutte gold questo è il money in the bank che contiene 32 carte uniche di lottatori femminili che non ci sono nel box quindi consiglio una su sei uno su sei team box può contenere un autografo che effettivamente non è poco uno su sei cioè è difficile trovarlo ma c'è di peggio e qui sono tutti gli autografi che si possono trovare nel nel box e in generale in tutti i pacchetti perché in ogni pacchetto può avere la possibilità di contenerlo in più ci sono tre carte una di una con rarità quindi limitata a una ce n'è solo una in giro per il mondo non penso che le vedremo qui in italia probabilmente in america non lo so di la verità questa collezione non so se è espressamente inglese quindi le probabilità si alzerebbero un pochettino sì forse è espressamente inglese perché c'è il costo in sterline e in euro quindi probabilmente europea questa collezione poi ci sono le speciali anche di mcintyre ce ne sono una trentina autografate anche questi saranno difficilissimi da trovare però non si sa mai in più ci sono delle carte giganti come questo di roman range che si trova nel nello starter pack che qui dice che costa 6 euro ma mi sembra di averlo pagato almeno 8 quindi i prezzi non so se corrispondono poi al vero comunque diciamo che per la collezione per arrivare a completamento un box dovrebbe aiutare questo è necessario per avere le carte le 32 carte femminili che se no non si trovano nel box in più nei multi pack ci sono alcune carte speciali limited edition che non ci sono negli altri e niente l'album ci vuole anche per avere la guida e tutto quindi questo diciamo che il set base da prendere in realtà si potrebbe evitare il multi pack e prendere solo queste tre cose però il multi pack costa poco e una card di l'exobliss non si rifiuta mai detto questo procederò poi allo sbusto però per ora per darvi una panoramica sean già a buon punto